Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! La pop star Katy Perry ha svelato un particolare dettaglio sulla sua relazione con il marito Orlando Bloom durante un'intervista per il podcast Call Her Daddy. Katy ha rivelato che se Orlando si occupa delle faccende domestiche, viene ricompensato con sesso. Inoltre, ha dichiarato di non essere attratta dai narcisisti. Durante l'intervista, Katy ha scherzato sul fatto che se Orlando lava i piatti e tiene la cucina pulita, riceverà un trattamento speciale da lei. Ha enfatizzato che non ha bisogno di regali costosi, ma apprezza gesti di cura come questo. Inoltre, ha confessato di non essere più attratta da persone narcisiste. La cantante ha anche parlato dei campanelli d'allarme in una relazione, sottolineando che non sopporta chi cambia continuamente atteggiamento o non offre supporto. Ha evidenziato l'importanza di una relazione basata sulla comprensione reciproca e sull'aiuto reciproco. Katy Perry e Orlando Bloom si sono conosciuti nel 2016 e da allora hanno costruito una relazione solida nonostante alcune pause. Dopo un periodo di amicizia e flirt, la coppia ha deciso di impegnarsi seriamente. Nel 2019 si sono fidanzati e successivamente si sono sposati, dando il benvenuto alla loro figlia Daisy Dove Bloom nel 2020. La storia d'amore tra Katy Perry e Orlando Bloom ha catturato l'attenzione dei media per la loro chimica evidente fin dall'inizio e per la loro capacità di superare le difficoltà insieme. La coppia continua a essere un esempio di amore e complicità.